buongiorno dalla redazione di florence multimedia in studio agnesio fedeli cominciamo dall'autostrada prudenza per vento forte in a1 tra rioveggio e aglio tra pio 1 variante aglio e tra valdarno e fabbro raccomandiamo particolare attenzione alla guida di mezzi terronati e caravan per la mobilità infipilì rallentamenti per lavori in direzione mare tra empoli est ed empoli verso firenze tra montelupo e ginestra ricordiamo che sono in corso lavori all'altezza del turbone per un tratto di 400 metri per corsi alternativi sulla sp 12 della val di pesa voltiamo pagina per il traffico ferroviario per un guasto temporanea gli impianti di circolazione tra lucca e tassignano i treni regionali potranno subire ritardi variazioni prima di salutarci per il traffico urbano di firenze per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete idrica in via di santo spirito è scattato il divieto di transito nel tratto via dei geppi via dei coverelli provvedimento è in vigore fino al 14 febbraio muoversi in toscana infia un servizio in collaborazione con la regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze per ora è tutto buon viaggio